La manovra di bilancio allo studio del governo Meloni e gli effetti che questa avrebbe sugli enti locali starebbero già facendo emergere i nodi connessi con l'elezione di Pierluigi Biondi a presidente della componente abruzzese dell'Anci, l'Associazione dei Comuni. A fare il punto della situazione il Partito Democratico Regionale, che già prima dell'Assemblea di Anci Abruzzo, svolta venerdì scorso, aveva messo in luce come la figura di Biondi, sindaco dell'Aquila ma anche responsabile enti locali dei Fratelli d'Italia, sarebbe stata non adatta a garantire pluralismo e piena rappresentatività in seno all'Associazione dei Comuni abruzzesi. In questa legge di bilancio che stiamo discutendo a livello nazionale è previsto un miliardo e mezzo di tagli agli enti locali nel prossimo triennio, che si aggiungono a un miliardo di tagli già della scorsa finanziaria. Ora rispetto a questo fatto il neo eletto presidente dell'Anci Abruzzo Pierluigi Biondi dichiara, tutto sommato il nostro comparto è meno colpito che nel passato. Attenzione, non è colpito e noi critichiamo questi tagli ma è stato colpito anche in passato, no, tutto sommato il governo sta facendo bene, che era esattamente quello che noi abbiamo previsto. Il responsabile nazionale enti locali di Fratelli d'Italia è incompatibile con un ruolo di rappresentanza dei sindaci, delle sindache abruzzesi. In conferenza stampa gli esponenti del Partito Democratico hanno ripercorso anche quella che è stata la decisione di candidare il sindaco di Vasto e presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, come alternativa a Pierluigi Biondi. L'obiettivo non era vincere alla conta ma portare avanti una battaglia per la dignità dell'Anci Abruzzo. Pierluigi Biondi, hanno detto ancora idem, è stato praticamente imposto senza che ci fosse la possibilità di trovare una sintesi ragionando su altri profili. Noi ci siamo resi disponibili a ragionare dei restanti 304 sindaci, tutti quanti possono essere benissimo presidenti del Lanci Abruzzo, così come è sempre stato nella storia del Lanci, cioè l'elezione di un presidente deve essere unitaria, così come è nelle restanti 19 regioni italiane che nel mentre discutiamo stanno eleggendo unitariamente i loro presidenti e si eleggerà unitariamente anche il presidente nazionale, invece in Abruzzo si è voluto fare un atto di arroganza insensato che ha reso l'Anci Abruzzo una succursale di Fratelli d'Italia che costringe gli altri sindaci, il 40% che non lo hanno votato, ad organizzarsi per far sentire la loro voce.